Sono stati più di 500 gli alunni delle scuole elementari e medie salernitane che questa mattina hanno preso parte alla visione dello spettacolo teatrale Alice oltre lo spreco presso l'auditorium del centro parrocchiale San Giuseppe, dove si è chiuso il progetto di educazione ambientale alla raccolta differenziata Compost Goal inserito nel più ampio programma promosso dal comune di Salerno e da Salerno Pulita sulle bioplastiche compostabili e cofinanziato da Biorepac. Allo spettacolo hanno partecipato gli alunni di 27 classi degli istituti Santo Maso d'Aquino, Giovanni Paolo II, Medaglie d'Oro, Alfano Quasimodo, Matteo Mari e Monterisi, una rappresentanza delle 62 classi che hanno aderito al progetto e che ha coinvolto complessivamente 1240 ragazzi anche attraverso l'accesso ad una piattaforma virtuale con incontri tenuti da esperti animatori per approfondire argomenti relativi alla raccolta differenziata e alle bioplastiche compostabili. Prima dello visione dello spettacolo l'amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennett e l'assessore all'ambiente Massimiliano Natella hanno consegnato ai dirigenti e ai referenti dei sei istituti comprensivi cittadini i bonifici per l'acquisto di attrezzature scolastiche come premio per la partecipazione all'iniziativa. È un bel progetto di educazione ambientale che ha coinvolto circa 1200 bambini degli istituti comprensivi salernitani. È stata una bella occasione per cominciare nel dettaglio a ragionare su alcune frazioni di conferimento sull'educazione da offrire alle nostre famiglie tramite i propri ragazzi. È stata anche l'occasione di poter incentivare gli istituti comprensivi. Saranno premiati sei istituti comprensivi con un premio in denaro offerto dalla società Salerno Pulita. Grazie anche ai consorzi di filiera noi cerchiamo di tenere alto l'attenzione sulla raccolta differenziata di poter attraverso queste iniziative educative mantenere quello standard buono alto che abbiamo raggiunto in quest'ultimo anno e mezzo che ha portato anche dei risultati importanti e dei riconoscimenti nazionali e ci auguriamo che il coinvolgimento delle scuole e dei bambini possa essere sempre mantenuto nel tempo come elemento anche strutturale della formazione dei nostri ragazzi. Grazie a tutti.